Un itinerario agricolo a Milano, la metropoli per eccellenza, non è un paradosso. Milano, ma fin dal nome Milano è legata all'agricoltura, mediolanum in mediolane, in mezzo alla lana di una scrofa, di una scrofa lanuta, non ho capito bene, a metà tra un maiale e una pecora, ma insomma comunque parliamo di agricoltura. Milano tra l'altro è sorta proprio sulla linea dei fontanili, Milano da bere, no, quello era un altro slogan, si riferiva magari agli aperitivi, qua invece Milano da bere perché Milano è veramente legata all'acqua. Ma nel 1100-1200 i monaci ciccercensi cominciano a fare le prime bonifiche, a tracciare i primi canali, poi arriva Leonardo, Leonardo da Vinci e l'idraulica diventa una scienza. Tutto per l'irrigazione, tutto per l'agricoltura e tutto anche per i trasporti dalla campagna alla città attraverso i navigli, il naviglio grande, il naviglio pavese che arrivano qui alla Darsena. Questo è l'antico porto commerciale e ancora adesso è il centro, diciamo così, di analisi legate al territorio, all'agricoltura, al futuro, all'ecologia. Guarda là, guarda quella cosa strana. No, non sono arrivati gli extraterrestri, è un progetto. Magari quando voi tornate qui in questo itinerario non lo trovate più perché è provvisorio, ma è molto significativo. di una Milano che anche durante e dopo l'Expo è molto sensibile a questi temi. L'hanno chiamata Jellyfish Barge. Jellyfish sarebbe medusa, ma non sta sott'acqua come le meduse. Sta sopra acqua perché qua sotto ci sono dei bidoni di plastica riciclati che tengono a galla una piattaforma ottagonale. Importante che sia ottagonale perché questa struttura è assolutamente modulare. Un domani se ne possono mettere assieme tante, uno attaccato all'altra. E la struttura è fatta di legno e questo non è proprio vetro, questo è un polimero trasparente che fa passare la luce. Ecco, a proposito di luce, sopra ci sono pannelli fotovoltaici che alimentano l'energia che serve per far funzionare questa. Che cos'è? Una serra galleggiante. Ma la cosa incredibile è che questa serra non consuma energia, ma non consuma neanche acqua, nel senso che la ricicla, la pulisce o se fossimo sul mare la desalinizza. Come? Con un sistema che è assolutamente naturale. Guarda, lì l'acqua in qualche modo viene scaldata e poi passa in questo macchinario, che è proprio il desalinatore, che riproduce il sistema naturale della evaporazione e condensazione dell'acqua. Guarda quelli di gocciolone lì, produce anche 150 litri di acqua pulita al giorno e poi, guarda queste piantine qui, guarda, ecco. Sono praticamente, con le loro radici, sono messe dentro l'acqua. Questo è un progetto dell'Università di Firenze. Nel 2050 pare che saremo 10 miliardi di abitanti sulla terra e l'acqua sarà un bene assolutamente raro. E quindi questa idea guarda al futuro. Ma la vocazione agricola di Milano, beh, ha le sue radici nel passato.